Decima scuola in Italia, prima in Veneto, ad adottare il cosiddetto regolamento per la carriera alias. La delibera del Consiglio d'Istituto del Liceo Cornaro di Padova permette a studenti e studentesse transgender che vivono quindi un percorso di cambiamento di genere, psicologico, medico e legale, e anche di variazione dei dati anagrafici, di usare il loro nuovo nome nei documenti scolastici come registro elettronico, badge, mail, pagelle e altri. È semplicemente un regolamento che consente alle persone e agli studenti che si trovassero nella situazione di esprimersi nel modo in cui si possono sentire più adeguati, più in sintonia con se stessi. Una persona alle prese con il cambio di genere deve attendere anni prima di poter usare quello che viene chiamato il nome di elezione sui nuovi documenti di identità. Il Liceo Cornaro non ha tra i suoi quasi 1200 studenti nessuno che stia vivendo il cambio di genere. Comunque è un'esigenza che gli studenti manifestano, è un percorso che è possibile fare in una prospettiva non solo di inclusione ma anche di dialogo e di condivisione con gli studenti di percorsi, come dire, in questo caso che sono anche di educazione civica. I primi passi da fare in avanti su questo sono prima di tutto di formazione, di formazione sia ai ragazzi che vivono la scuola, sia ai docenti e ai presidi che molto spesso nel momento in cui parli di questi argomenti si ritraggono un po' a guscio, primo per paura di finire sui giornali e secondo anche per mancanza di occasioni appunto di formazioni che loro stesso hanno avuto per riuscire a comprendere gli studenti. Per attivare la carriera alias non deve esserci bisogno di una persona in quel momento che te lo chieda, perché deve essere uno strumento che una persona sa di poter avere nel momento in cui arriva a scuola. Serve un cambio di mentalità? Assolutamente sì, le dichiarazioni che sono state fatte da tanti esponenti della scuola in questi giorni delineano anche lì una grossa mancanza di formazione su quella che è la situazione degli studenti transgender.